Seppur con un segno positivo, Arezzo registra una delle peggiori performance rispetto alle esportazioni nel primo trimestre del 2023. 2,6 miliardi di euro con una crescita rispetto al 2022 di appena lo 0,4%. Arezzo è uno dei dati peggiori in Toscana, le altre province sono quasi tutte a doppia cifra, fanno peggio di noi solo Grosseto e Lucca, che hanno un segno meno. L'export a retino anche nel periodo gennaio-marzo 2023 fa segnare un risultato positivo, commenta Massimo Guasconi, presidente della Camera di Commercio, con una crescita però molto inferiore rispetto al risultato medio regionale che si attesta al 17%. Un risultato comunque influenzato dal risultato positivo di alcune province come Massa Carrara, dove il settore dei macchinari ha registrato ottime performance, e Livorno addirittura con oltre il 190% in più, che ha quasi triplicato il valore del suo export grazie ai prodotti petroliferi. A condizionare il dato a retino è il prezzo dell'oro. Nel primo quarto del 2023, continua il presidente, le esportazioni si sono attestate a poco più di un miliardo di euro, in flessione del 14,7% rispetto al 2022. Il prezzo dell'oro, con una crescita del 5,2%, ha contribuito. Il quadro economico complessivo presenta comunque molti elementi di incertezza. Le previsioni di aumento del PIL nazionale vedono alla base soprattutto i servizi, mentre il comparto manifatturiero e le costruzioni sono in fase di rallentamento. I consumi interni restano ancora fortemente penalizzati dall'inflazione.